Diciamo che questa glicosi, ripeto, è un monosaccarideus, ossia una unica molecula, una molecula molto simile, e nel nostro mondo è chiamata anche di dextrosi. A dextrosi, gente, è la stessa identica cosa, ossia a livello molecolare sono la stessa identica cosa, solo che una è chiamata glicosi e altra dextrosi, perché, diciamo, nella luce polare, questa molecula viene a direzione, per questo si chiamata di dextrosi. Ma a livello molecolare, diciamo che, quimicamente non c'è nulla differenza tra l'altra. Quindi, a partir di ora, io non chiamarei mai la glicosi di glicosi, ma di di dextrosi. Perché? Perché la dextrosi è il cibo che troviamo dopo, nel nostro mondo, sia nel mondo della sorbetteria come uno mondo da confittaria, per esempio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.